musica 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 oh ragazzi regchiamo quando arriviamo siamo già arrivati appesando le bici musica 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Gelsi rossi, guarda che sono già buoni. Ecco, fra un po' qui ci avvicineremo. Ed ecco qua lo spettacolo Tavolara Porto Taverna. Guardate che spettacolo. Eh? Hai visto le strade qua come sono? Tutto su e giù. Ancora noi c'è in fuga. Ancora noi c'è in fuga. E c'è qualcuno in acqua eh? Ancora noi c'è in fuga. 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 Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info 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 Grazie a tutti. 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 Questo qui è quasi sempre secco d'estate. Questo stagno qua è sempre secco. L'estate non c'è mai acqua. Grazie a tutti. Dove vi ho portato? Spettacolo, eh? Non è uno spettacolo? E qui l'acqua non è mai tanto alta, al massimo 5 metri e attraverso fai tutto il risotto al muoto. E' un po' più grosso. Sì, perché l'aria arriva di là, per cui la prende piena. Tiziano, sono due chilometri da casa mia. Pazzesco. Due o tre chilometri. Siamo che abbiamo fatto chissà cosa. Eppure, vedi, ogni giorno, a seconda di come tira il dento, tu vieni. Qui c'è la sabbia terribile però, è fine fine, a me non piace. Però guarda che acqua, scusami. Guarda quella lì in acqua, lì. E quella senza muta, eh? Adesso no, dobbiamo tornare un po' indietro, almeno che non c'è una strada di là. Ciao! Ciao! Oh! Gli stavano... Minchia, vedi? Ma guarda che è stato tanto tempo in acqua, eh? Olanda! Oh! Oh! C'è? È proprio un minchione! Ma che ci fermi, scusa? Daniel! Sì, è vero. 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 Sì. Sì, è vero. Sì, è vero. Sì, è vero. Sì. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti.